Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono il vostro Dragonerd22 e quest'oggi siamo tornati qui su Fortnite per fare le nostre amatissime sfide giornaliere. A parte quella di giocare con un amico che è pagata come lo schifo, dobbiamo fare di sopravvivere 150 avversari e di posizionarci nella top 25. Come vedete sono salito a livello 50 e sono livello pass battaglia 32, io vado in singolo, andiamo. Eccoci qua per la nostra fantastica partita e io direi di andarcene al lago, visto che dobbiamo resistere a 150 giocatori. Scendiamo subito. È sempre un piacere far sentire questo suono nelle mie orecchie. Dunque, dunque, io direi di fare sempre lo stesso giro perché forza quella sua bella fortuna. A meno che qualcuno non è disgraziato e me la ruba. E tu sei un maledetto. Ah no, meno male. Curva, curva, quel tanto che basta perché devo buttarmi sulla cassa. Magari riesco subito a uccidere uno. Ok, l'ho visto. Dipende dove si sposta, potrei anche provare a ucciderlo. Il controller aveva deciso di farsi i fatti suoi. Mi fa molto piacere. E lì dentro. Merda. Che belliscio. C'è uno che sta salendo. Mamma. Salve. Devo farmi già due kill però. Vabbè. Sì, va bene. Ok, un po' fucile già lo posso. Posso anche questa. Ciucciati subito questa. Dammi le bende. Quindi vuol dire che lì sopra già c'è stato. No. Adesso la torretta. Madonna, 66 ho levato. Se solo avessi le granate. Ah, mio Dio. Non dico che si chiuda lì. Però. Però. Già ne rimangono 44. Due kill. E io ho sentito sparire. Lo vedo. Questa è lo scar. Proviamo. Dallo scar. Bastardo. Potrei farli ammazzare fra di loro. Poi intervengo, tipo. Eh, merda. Ho fatto la cazzata, mi sa. Ho fatto la cazzata, mi sa. Non ha saltato più, dai. Beh, 27 di vita. L'ultimo colpo dovevo sparargli. Ah, che bello. Dovevo posizionarmi alla top 25, è vero. Potevo giocarmela meglio. Facciamocene un'altra. Quanto meno una sfida la vorrei completare. Ok, eccoci qui per la nostra seconda partita. Dicevo. Forse potrei farci. Dovrei arrivare ottavo. Per fare entrambe le sfide assieme. Ottavo. Ci potrei provare. Me ne potrei andare al lago e... Molto easy, cerco di scappare via. Dai. Ci si prova, ci si prova. Tanto sicuro ci saranno quelli che si ammazzeranno all'inizio, quindi... Quello mi va bene. Da là potrei provare ad andarmene, dipende dove la safe, verso Parco Pacifico. Non penso ci sia qualcuno che ci vada. Poi non lo so. Tutto un mistero. Sì, tecnicamente. Ah, c'è già uno che va al lago. Merda. Tu ci scommetti che la mia partita dura bene del previsto? Certo. Se troppo queste cagadine. Aspetta. Entra veloce. C'è già un altro che sta pure arrivando. Eh, sì. Dai, fatti ammazzare. Ammazzatevi fra di voi. Sta salendo. Non mi ha lasciato niente. Non mi ha lasciato niente. Va bene. Dai, però... Hai un cecchino. Beh, ma anche un'altra arma, mi sa. Dai, sali. Merda. Ma salendo dall'altro lato. Mannaggia. Ah, porca miseria ci ho provato. Niente. Ma perché oggi li sto lasciando tutti così? In fin di vita. Ma andate a quel paese. Ok. Questa qui è l'ultima partita. Come andrà a... Dunque. Vediamo di scendere sempre al lago. Perché è l'unico posto dove io possa provare a sopravvivere. E armarmi un pochettino per poi andare a combattere. Che... E pinnacoli non ci scendo neanche morto. 99. Io devo resistere ad altri 50. Se sopravvivo ad altri 50 giocatori, completo una sfida. Se poi ne facessi altri 25, ne completerei due. E che palla è la gente che scende al lago, però. Sento Dio, guarda quanti. Dai. Dai, però. Che sfiga. Cristoforo Colombo. Non c'è da scappare, dì. Ma io non scappo mai. Allora. Ma veramente... Ah, qua, ok. Però... Che sfiga del cacchio. Sì. La mia arma è questa. Oh, tu dimmi quello che devo fare con una mitraglietta, io. Quello va già saltellando, no? È lì. Giustamente, pure lo scudo. Merda. Quella fa male. Cacchio, che culo. Vai col bendaggio. Ok. Ti è arrivato un colpo. Se mancavo quello, era la mia fine. L'ho trovata, l'ho trovata. La minigun. Dai, così. Certo, ci vorrebbe adesso una bella pozione e qualcosa, però ho trovato già la minigun. Tantissima roba la minigun. È bellissima da usare. Diciamo che fa un male incredibile. Ho anche munizioni a gioco. Perfetto. Sopra che c'è? Ancora colpi, ma guarda. Questa qui la butterei. Qui non ci sono munizioni. Facciamo così. E così. No. Ok. Oh, meno male. Direi di usarlo subito il medichino. Ok. Mi sono appena appena curato. Direi di raccogliere armi e bagagli. Munizioni varie. Sul tetto. Sul tetto c'è qualcosa che mi... Potrebbe come non ispirare. E infatti sono munizioni che servono sempre. Perfetto. Direi di andarcene adesso. Prima di andare... Guarda, le casse sospette. E se dai. Prima di andare lì. Che ci dovrebbero essere... Munizioni, una cassa, qualsiasi cosa. Dopodiché andiamo verso... Tomato Town? Magazzino? Non lo so. Quello che mi ispira di più. 53... 52. Qua non c'è niente. Neanche munizioni, dai, però. Ok, possiamo andarcene. Ho poca legna, però. 89. 89. È un po' pochino. Direi di raccattarne un po' in giro. Perfetto. Già. Almeno un altro albero può passare, per il momento. Ok. 181. Vai, guarda. Prendo l'ultimo. Perfetto. Oh, 199. Non lo posso vedere, mi dispiace. Tanto dammi l'arma. Non si sa mai. Quello che si può trovare in giro. Ah, vedi. Cosa è buone. Facciamo così. Un pompa serve sempre. Soprattutto questo che è buono. A colpi non sono messo tanto bene, direi. Vediamo cosa c'è qui dentro. Oh, cassa di munizioni. L'ho chiamata. E anche i colpi c'erano. Oh. Ti ringrazio. Doppio ti ringrazio. Che posso una mitraglietta. Le bende le devo lasciare. Per una cura veloce. Per una cura rapida le bende servono. Aspetta. Ti vedo. Voilà. Molto facile è stato. Non ho posto nessun tipo di resistenza. Eh, pure lui ha la mimica. Bizzica, non la vorrei lasciare lì per terra. Per il prossimo che passa, uffa. La vorrei prendere e lasciarla qui. Più che altro i colpi mi interessavano. Sono uguali. Intanto si vedeva correre in una maniera incredibile. Con quell'ernese gigante. Siamo rimasti in 29. Dai. vicinissimi alla top 25. Abbiamo completato già la prima sfida. Il che mi sta muovendo. Oh, che cecchinata che ho sentito. Li vedo, li vedo combattere. Potrei sfruttare l'occasione perché quello può essere che scende a prendersi gli oggetti. Vediamo. O potrei andarci io e vediamo come va. Aspetta, lo vedo muoversi. Ci sta andando infatti. Dai, 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 dai. In questa. Sì. Ti tiro giù tutto, ti tiro giù. Ah, 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 ah. Cosa? No. No, il controller. Dai. 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 Ciucciati un po' di questa, assolutamente. Vai. Scusso di merda. No, dai, dovevo prendere il pompa. Porca miseria a me. E 10 di vita. È la giornata del lasciarle con poca vita. Va bene. Se prendevo il pompa lo ammazzavo. Aveva 10 di vita. O almeno con l'ultimo colpo. Fanculo. Vabbè, dai. Beh, direi che siamo andati abbastanza bene. Abbiamo completato tutto. Ah. Ma io non voglio il punto esclamativo. Che mi serve? Eh. Pass battaglia 33. Mi interessa arrivare a 35. Almeno vorrei prendere la Shalibur. Non penso di poter prendere altro. Un po' tanto complicata la cosa. Non penso di poter arrivare qui. Assolutamente. Forse mi potrò fermare. Massimo a 40. Così. Non di più. Dunque ragazzi. Io direi che questo video può finire qua. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento. O mi piace. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Condividete il video con i vostri amici. E noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.